buongiorno massimo ecco qui il tuo car tablet dedicato bmw z4 android 10 4 giga di ram rom 64 giga ti ho inserito nella scatola anche la retrocamera adesso c'è la pellicola protettiva che una volta installato il prodotto tu la potrai installare andiamo con la dimostrazione partiamo dalla gestione audio e video tramite usb qui stiamo vedendo gestione video andiamo avanti possiamo andare mettere anche altri video poi passiamo alla gestione audio gestione audio eccola qui qui sono tutti i titoli delle canzoni poi passiamo alla dashboard questa è la prima dashboard una volta collegato avrai anche in digitale andiamo alla seconda questa è la seconda potrai anche personalizzarla e poi entriamo nel mondo android qui andiamo sulle app avrai un dsp a disposizione dove potrai fare tutte le impostazioni andiamo su maps youtube lo dovrai scaricare una volta che ammetti l'account aprirai il play store ti scarichi youtube e così tutte le altre app che ti interessano viale palmiro togliatti 600 potrai seguire la gestione vocale come ho fatto io in questo momento che dire un prodotto come al solito top quality by audiolite io massimo ti ringrazio rimaniamo a disposizione se ti servirà un supporto tecnico daremo assistenza da remoto grazie